Per questo Natale da Cucciolandia in via Glasgow, alla Dispoli, le novità sui mangimi per cani sono imperdibili. Silvia Bartolotti ci illustra un regalo da non perdere. Tantissime offerte, tantissime sorprese per i nostri clienti, soprattutto su un prodotto che conosco da molti anni, che è questo, la Nutro, che è un prodotto particolare che vendo da parecchio tempo, ma quest'anno ha fatto una formula nuova, senza conservanti, senza latticini, senza soia, né OGM, né farinacei e né latticini. Quindi è un prodotto molto buono e ci saranno dei forti sconti e tante sorprese. Ma di regali per i vostri amici a quattro zampe, Cucciolandia ne ha davvero tanti. Sì, perché oramai fanno parte della nostra famiglia, quindi abbiamo panettoni per loro, pandori per loro, i torroni, tanti biscottini che si possono appendere all'albero, ogni tipo di gioco, vestitini, cappellini, sciarpe, collarini, ogni cosa a vostro gradimento. Veniteci a trovare, manca poco, noi vi aspettiamo. Buon Natale!